La realizzazione di un nuovo edificio scolastico a Canicattì che ospiterà il liceo classico Ugo Foscolo, la riqualificazione paesaggistica dell'antica Montevago, distrutta dal sisma del 1968, e tre interventi di riqualificazione urbana nei comuni di Grotte, Racalmuto e Raffadali. Sono questi i lavori che saranno realizzati in provincia di Agrigento con i fondi del PNRR per un importo complessivo di circa 24 milioni di euro, grazie a cinque concorsi di progettazione banditi dal Libero Consorzio Comunale per la Scuola di Canicattì e dai comuni di Grotte, Racalmuto, Raffadali e Montevago, finanziati dallo Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 17 dicembre, purché vengano pubblicati i bandi entro la data del prossimo 18 agosto. In particolare i primi quattro concorsi di progettazione sono stati già pubblicati sulla Gazzetta Europea e sulla piattaforma del Consiglio Nazionale degli Architetti e sono pertanto già attivi, mentre il quinto, per Montevago, sarà pubblicato il prossimo 12 agosto. Siamo lieti di avere gettato un sasso nello stagno, afferma il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamedola, offrendo il nostro supporto tecnico e l'uso gratuito della piattaforma del CNA, con l'obiettivo di stimolare concretamente le amministrazioni locali ad intercettare le risorse del PNRR per promuovere preziosi interventi di rigenerazione urbana sul territorio provinciale. Tutto ciò ricorrendo ai concorsi di progettazione a due gradi, che riteniamo essere il migliore strumento per produrre architettura di qualità e valorizzare il talento dei professionisti. Temiamo tuttavia, continua il Presidente dell'Ordine, che al di là degli enti che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa con il nostro ordine, nessun altro comune beneficiario dell'Agrigentino sia pronto a pubblicare ulteriori bandi entro la scadenza del 18 agosto. Si rischia così di mandare in fumo una serie di concorsi di progettazione che avrebbero potuto produrre ulteriori lavori sul territorio provinciale per un importo complessivo di circa 36 milioni di euro. Sperando di essere smentiti dalla pubblicazione di numerosi nuovi concorsi entro la data di scadenza, conclude Lamedola, apprezziamo l'impegno e la determinazione del commissario straordinario del Libero Consorzio e dei sindaci di Grotte, Montevago, Racalmuto e Raffadali.